Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una puntata del Cartotto Educational. Questa puntata ha origine in Trentino. Ci troviamo infatti in questa zona meravigliosa che è osservata alle mie spalle, che è quella dei laghi del Colbricone. Questi laghi sono una testimonianza che risale al Mesolitico, sono stati scoperti nel 1971, sono quindi una testimonianza molto molto importante. Come possiamo osservare, oltre a rispecchiare la montagna all'interno del palo, abbiamo sullo sfondo il meraviglioso patrimonio delle Dolomiti, che è anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Nel prestigioso club, quello World Heritage, poi che dire, la temperatura è estremamente gradevole, oscilliamo tra i 15 e i 19 gradi. Abbiamo anche la possibilità di trovare ristruttori per i viandanti, per chi si trova in queste zone, e ancora di più, dove ora l'operatrice sta mostrando, vediamo anche i solchi degli impianti, che consentono tramite il Colbricone Express, oppure altre linee, di raggiungere, non a piedi, ma attraverso l'impianto, queste meravigliose zone. Ci troviamo sopra, siamo comunque a 1900 metri, ci troviamo sopra l'abitato di San Martino di Castrozza, un bel percorso a salire. Un caro saluto a tutti, da Andrea Cartotto.